Questa è una delle mie pagine preferite Tatsugiri Tatsugiri che te giri Oh ragazzi c'è qualcosa Ciao vogli allenatori Oggi vi saludo a noi Oggi noi con questa bimba qua che sta facendo le linee Ma noi abbiamo tantissima voglia Di farvi vedere il nostro album A che punto siamo? Come siamo messi? Con scarlatto e violetto Male Male Abbiamo aperto 100 e più pacchetti probabilmente Ma non troviamo una carta rara Però diciamo che oggi vi faremo vedere l'album Guardiamo un pochino a che punto siamo arrivati E alla fine rimanere con noi Perché dobbiamo spacchettare i pacchetti avanzati Dal box 36 Mandato da Federick Perché questo video è in collaborazione con Federick Store Abbiamo il codice sconto Poche aspettative 7% mi raccomando Fate shopping e taggateci su cosa spullate Su cosa avete comprato Perché ne vale la pena E sicuramente sarete più fortunati di noi Sicuramente Guarda noi abbiamo sempre poche aspettative Ma un gran cuore Una grande passione diciamo Soprattutto perché ci divertiamo Questo è l'album temporaneo Nel senso che ogni collezione temporanea Viene messa su quest'album Quando poi viene finito il set Con esce una nuova Con esce una nuova Viene spostata Compriamo un nuovo album E mettiamo tutto là dentro Viene spostato su un album suo Personale Io credo che quello di Violetto Scarlatto Sarà un album o viola O rosso Rosso pensavamo Rosso probabilmente per lo Scarlatto Andiamo a vedere Devo dirvi una cosa Io non l'ho mai guardato Io ho detto Scarlatto Scarlatto e Violetto Perché sinceramente Non è un set che mi piace Non mi fa impazzire Diciamo che siamo messi Molto bene con le reverse Perché se ne trovano due Ad ogni pacchetto E visto che noi non troviamo quelle rare Troviamo sempre le reverse Tutte le reverse Quindi come reverse siamo messi bene Se vi serve una reverse Chiedeteci Ce l'abbiamo Perché potarsi che ce l'abbiamo Iniziamo a vedere l'album Perché ci manca Pineco Qua vedo come reverse Brilum Cacnea Dov'è? Ah è vero questa Scatterbug Sì Poi Sempre dei pokemon Di tipo erba Qua c'è tutti Ah no Taruntula Taruntula Eccolo qua Poi? Qua no Toad School A me piace dire Tutta piena Invece no Posso dire che mi piace tantissimo Questo disegno qua Mi piace anche Dolive In realtà Come disegno E il fatto che l'ambientazione Sia simile Per Smallive E Dolive Insomma lo trovo carino Carino Poi qua ci manca Scovillen Come ultimo pokemon Di tipo erba I peperoni arrabbiati I peperoni arrabbiati Poi Grolit pure ci manca No ci arrabbiamo Come fuoco Qua ci abbiamo tutto Tutti I fuochi tutto eh I fuochi abbiamo fatti I fuochi ci avemo I fuochi Poi passiamo ai pokemon Di tipo acqua Ci manca Buizel Cluncher Bruxish E Quaxley Quaxley mi dispiace un po' eh Sono sincero Perché di questo trio Era bello averlo Vabbè certo Arriverà Arriverà Io sono fiduciosa Nei pacchetti che mancano Del box 36 Lo troveremo Qui ci manca Cetoddle E Tatsugiri Sembra una parolaccia Detta a qualcuno Che sta a girare E gli dici Tatsugiri Tatsugiri Che te giri La vina ha mal di denti Eh purella Un po' di coccole Poi qua ci manca Fluffly Rotom Rotom E basta Qui Miraidon Forse Miraidon A reversa Hai visto la reverse Di Miraidon Sì E ci manca Non l'avevo mai trovata infatti Poi Però uso questa Di questa Ah no pure Pomoth Pomoth ce l'abbiamo C'è dietro Ancola qua Vedete Ah ok perché tu le metti dietro Sì le reverse le mettiamo dietro Forbattione Delle olo Sì perché Diciamo che ci sono due modi No di fare l'album O mettete la normale Poi accanto la reverse Oppure la mettete sopra La reverse Oppure se c'è l'olografica Sotto all'olo Sì noi la mettiamo sopra l'olo Perché voglio sapere Qual era l'olo Di quel set Pokemon di tipo Psycho Qua L'abbiamo finiti E qui ci manca Dedenne E questo qua Fidu Carino questo ipno eh Bello sì Io certi non mi ricordo proprio Non avendolo mai sfogliato Ah forse questo Klefki Klefki Ci manca Ma lui ma lui Quanto carino questo Il caglionino Dutchman In questa pagina ci manca Flitle Perché c'ha tre versioni Non si sa perché Era necessario Pokemon Company Non era necessario Non era necessario Questa ce l'abbiamo Eccola qui Gettivi la necessità No Ci mancavano i Flitle No Di qua ci manca Lucario purtroppo E Crocoroc Lucario è il mio preferito Quindi dico purtroppo Mentre di qua Coraidon Probabilmente Sì Lucario No è Lucario Qua ci manca amore C'è anche Tommy Che sta mangiando Tommy sta mangiando Qua accanto a noi E poi ci raggiunge Per spacchettare sicuramente Chi lo trattiene Poi di qua Ci abbiamo tutto Poi in questa pagina Ci manca Mabostif E di qua Ce li abbiamo Forse questo Sì ci manca questo qua Revavruma Qua invece ci manca Zanguse E Indide No Indide c'è Indide c'è Questa è una delle mie Pagine preferite Perché ci sono tutti i maialini È troppo carina Quella dei maialini E poi I topolini Che diciamo noi Questi siamo Noi Questi siamo noi Perché è la famiglia dei sorcetti Quindi è molto carina Squaccabilli Regà Cioè io mi immagino Ormai fa parte di noi Squaccabilli Ma mi immagino una lotta Non è necessario Pokémon Company No Però vabbè Martello che rompe Ce l'hai usato normale Ci manca Ci manca reverse Ma quindi alla fine Stiamo a fare il master set Ma solo delle reverse Condividi Ci manca reverse Sì Vero Zim Anche condividi esperienza Arbitro Mesa Poli Pura a me me sa Nemi Minorball Cestino da picnic Acchiappa Pokémon Poi di qua Scambio Benda vitale Nel frattempo ho lasciato la vigna Lì a dormire E quindi noi siamo pronti A farvi vedere La pagina quella che è più importante Diciamo no Da qui in avanti Ci sono le pull Che sono più quelle che non ce stanno Quindi vi facciamo vedere Quelle che abbiamo trovato Siamo molto contenti Comunque Guardate sono carine Abbiamo trovato Armarouge Slopo Slopo Che questo è delizioso Esce dal parcheggio Slopo Che fa tanto ridere Poi Wiglet Wiglet Che è un cetriolo de mare Praticamente Poi abbiamo Rouse Molto contenti di questa pull Fidu Che io ho preso Anche in giapponese È stata la prima pullata Penso L'abbiamo data anche doppione Doppiona E poi È vero C'è Gasly C'è Gengar Grivard Comunque Sì Molto carino Poi Clough Il granchietto Sulla montagna Starly Che ne abbiamo trovato Tre Starly Tre Starly Guarda i buchi Tre Starly Tre buchi Poi Quanti buchi sono Un botto di buchi La vina mi ha passato I pacchetti E qua vi facciamo vedere Velocemente Le full art A quanto finta L'addormentate Cioè voleva solo essere Lasciata sciolta Guardala Torni e zanna I x Garde war i x Solcoferro i x E oncoloni i x Poi passiamo agli allenatori Abbiamo Pepe Zim Aceria E ricerca accademica E Spide ops x Spide ops x Pullato Nell'episodio precedente Scarlatti e violetto E di qua abbiamo Grandi zanni Questa forse è la miglior Pullata che abbiamo fatto La migliore Che poi abbiamo Solcoferro i x E due gold Abbiamo trovato Calarmella rara E energia base Si ma l'energia base Quante volte abbiamo trovata? Eh due Ecco due Quindi questo era Il nostro album Di Scarlatti e violetto Comunque la situazione Attuale del nostro album Ma noi adesso Vogliamo Spacchettare Si Vai Lavi Prendilo tu Prendilo tu Ma Ma Metteremo Il tappeto Delle Pull Vai Marie Portace Fortuna Grazie E tutto Geridos E come mai Lo immaginavamo Oh dio Ha soffiato Quando soffia C'è la Pull Iniziamo Con quello di Tommy E' fatto da solo Ha fatto da solo Piano Fa vedere il codice Ricordati che è una carta sola Qui eh Una è vero Eccolo qua Il codicino E G Ok Vai Energia Toxel Rals Growlite Shuppet Ciclizar Benda Vitale Toxtricity Arbitro ci mancava Vedi Schiddo E Quacquavalla Beh arbitro ci mancava Bravo Tommy Quindi possiamo dire Tommy Un punto Il codice Per chi se lo prende E lo do All'alla Tieni Vediamo Oh ragazzi c'è qualcosa C'è qualcosa C'è Energia Fuekogo Stanjourner Penny Medici Questo ci mancava Ne sa Caruntula Detenne E Grandi zanne Yes Beh dai Almeno una pool C'era Adesso Tocca a papà Apri A papà 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 Un codicino Per voi Nonostante il mal di denti Piccolo Andiamo veloci ragazzi Energia Sprigatito Flitle Seviper Undur Tatsugiri Scovillian Torquall Monkey Sharchade Ciclizar Vuoto Un codicino Per voi Bravo To Energia Pokeball Rotom Blocco Amici Flabebe Condividi Esperienza Son Ger Penny Growlite Riolu E Skeleridge Non è il Riolu Ah no ci manca Lucario E Skeleridge Olo Tocca a mamma Vai Codicino Per voi Per chi se lo piglia Energia Undum Fidu Scatterbug Drifloon Mook Vivion Dutch Spoon Scambio Ce l'avevo Mi sa di si Growlite E Olusa Una Olo Va papà Ragazzi Finora Tot e mamma Al solito Amore Te devi rifà però Perché penseranno Tutti Ma niente Vi lascio il codice però Perché sono generoso Kinga della gold Delle gold Eccolo Dov'è? Kinga delle holo Credo Ormai Possiamo definirlo Energia Cetoddle Magikarp Magnemite Vedete che vengono sempre insieme Scambio di energia Brilum Chiloprattel Grident Recupero di energia Martello di rompente Che ci mancava E pomotolo Adesso tocca a Tommy Vai Do Facce sta pull Facciamo vedere il codice Energia Tarantula Riolu Magneton Clarice Mook Vivillon Dutchman Le Chonk Scatterbuck E una O Anni Pille Anni Pille Anni Pille Tot gamme Codice Chi se lo pilla Energia Flabebe Quaxwell Come stai? Quaxwell Condividi esperienza Touch cruel Benna Vitale Ci mancava Campo in spiaggia Magari Ci camperei volentieri in spiaggia E poi? E poi dopo tutte ste gretinate Arboliva Tocca a papà Codicino per voi Ragazzi Almeno una pull Dai Energia Martello di rompente Starly Flitte Cetitana Vabbè Zanguse Tarantula Reverse Mesa Poli Ci mancava Ragazzi E o Olo Ma ma sei abbonato a poste? Se sei abbonato Questo scarlatta e violetto sta andando malissimo ragazzi Ma adesso Ma adesso Me lo sta facendo vedere Ha detto una cosa e poi ha detto Ma adesso ci rifaremo con Tommy Facce sta pull Eccolo qua il codicino per voi Energia Fuecoco Tropius Pokeball Rotom Aceria Stano Letto Staraptor Generatore di elettricità Le shock Nemi Ci manca Reverse Stiamo trovando tutte le reverse che ci mancavano Hai visto? Hai detto no perché noi troviamo tutte le reverse infatti ci confermiamo con tutte reverse Mamma ti sfido Uno contro uno Vai La battaglia finale Stiamo ai giochi finali Questi sei codici Energia Dolly Candemouse Quaxley Smolive Martello di rompente Primeape Starly Pomi Lucario Mousehold Siamo l'uomo Fettorale di roccia Cracalor Chetitan Florges Floragato reverse Carina Pozione reverse Zanguse Reverse Mamma finiamo in parità Zero pull tutte e due Tre Due Uno Slowbro Ricerca accademica Ci abbiamo aperto dodici pacchetti Vuoti Siamo proprio delle schiappe Una ix c'era solamente Eh sì vabbè Come al solito non ci ha detto benissimo però ci siamo divertiti Sempre divertente al primo posto e avevamo anche poche aspettative E avevamo le reverse sì che ci mancavano Quindi cosa fondamentale è quella divertirsi e aggiungere qualche casa alla collezione Se trovate voi qualcosa di buono scrivetecelo qua sotto Mi raccomando E noi ci vediamo al prossimo spacchettamento Ciao 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 Ciao